Signore, in accordo con l'autorità aeronautica, faremo una dimostrazione sull'utilizzo della cintura di sicurezza, dei giubini di salvataggio, delle macchine per l'ossigeno e sulla localizzazione delle uscite di emergenza. Vi preghiamo di prestare attenzione. L'Eritogen, il Corso International Safety Regulations are now going to demonstrate the use of safety beds, light checker, oxygen mask and the location of emergency exit. Please pay attention. Osservate come allacciare, stringere e slacciare le cinture di sicurezza. Ognuno ha già l'accento. There are 8 emergency exits in this aircraft, 2 doors at the front, 4 emergency windows over the wings and 2 doors at the rear. All of them are clearly marked with an exit salida sign. The floor is a path marker on the floor. We hope to reach this exit. Please find the nearest exit to your seat. It could be behind you. I giubini di salvataggio sono situati sotto i vostri sedili. Non si possono utilizzare senza il consenso dell'equipaggio. The light checker are located under your seat. Please remove them only when it's time to do so by the cabin crew. Si indossano e infilandoli dalla testa. Place the jacker over your head. Si allaccia la fibra della cintura e si stringe intorno alla vita. Attach straight to the buckle at the front and pull to tighten. Si monta tirando dalle due placche rosse e maio all'interno dell'aereo. To inflate and pull the two red decks at the front and never inside the aircraft. Si può anche gonfiare soffiando nei tubi di gomma. If necessary, can the ocean inflate it by blowing through the rubber tubes. In caso di improvvisa perdita di pressione nella cabina, compartimenti posti sopra i vostri sedili. Seppurando e lasciando le maschere per l'ossigeno, tirate la maschera verso di voi, indossatela coprendo naso e bocca e respirate normalmente. Vi ricordiamo di rimuovere la mascherina igienica prima di indossare la maschera per l'ossigeno e di accertarli che quest'ultima sia correttamente posizionata su naso e bocca prima di aiutare coloro che necessitano assistenza. è in casa.